Ciao da Apsim! Oggi gioca la Juventus, o almeno scende in campo, in questo 15 agosto, ore 20.45, Allianz Stadium tutto esaurito, Juventus-Sassuolo, prima partita ufficiale della stagione, 22-23, prima di campionato. E partiamo già con l'endica, perché nelle partite che sono state già giocate, e manca, a parte noi, soltanto il Napoli, hanno vinto tutte, ma proprio tutte, le squadre più forti sulla carta, tutte le favorite. Quindi, se la Juventus dovesse non vincere, inizierebbe la stagione già con due o tre punti di ritardo da tutte le altre squadre più rilevanti nella rincorsa per gli obiettivi. Quindi sarebbe un handicap clamoroso, anche se si tratterebbe di due o tre punti, che possono sembrare pochi. Ma devi poi recuperare questi due o tre punti a 7-8 squadre, cioè è veramente già molto complicata. Ci fosse stato un pareggio, ci fosse stata una sconfitta di una delle squadre favorite. No, ha vinto l'Inter, il Milan, la Lazio, la Roma, l'Atalanta, la Fiorentina. Hanno vinto tutte le squadre, poi, volendo, il Sassuolo sarebbe una squadra che potrebbe essere candidata all'Europa, e quindi, battendo il Sassuolo, oltre che stare in pari con tutte le altre, ci metteremmo dietro anche, ecco, i nero-verdi. Ma se dovessimo perdere, pareggiando staremmo pari col Sassuolo, ma comunque perderemmo due punti dalle altre, perdendo sarebbe veramente già nero questo inizio. Sperando magari solo che il Napoli non faccia tre punti, altrimenti davvero un disastro. Questo per dire che possiamo iniziare, paradossalmente, anche peggio della scorsa stagione, quando iniziamo con il pareggio di Udine, e poi sconfitta con l'Empoli, e poi sconfitta col Napoli. Quello fu un inizio shock che è stato poi utilizzato per giustificare l'andamento della scorsa stagione, nonostante poi il Legri ieri se ne sia uscito con, anno scorso, ottima stagione, con il girone di ritorno con una media punti stratosferica, che in realtà era più o meno la stessa del girone d'andata, che poi però si è arrestata la rincorsa nella partita contro l'Inter, perché se non avessimo giocato con l'Inter... E vi ricordate l'anno scorso, ma se non avessimo giocato con le prime quattro giornate, togliendo le prime quattro giornate, la Juve è campione d'Italia, classifiche a caso inventate. Speriamo di non doverle vedere quest'anno, a prescindere da come andrà, naturalmente la speranza è che la Juve oggi vinca contro il Sassuolo, ma come predico da almeno cinque anni, cioè almeno dall'estate post Cardiff 2017, il canale che è stato aperto novembre 2016, la cosa più importante è sempre la prestazione. Il risultato viene dopo una prestazione valida, se non fai una prestazione valida è difficile che tu possa anche solo sperare nel risultato. Non è dello stesso avviso di Allegri Dionisi, di cui vado ad analizzare dopo le parole, ma ovviamente dobbiamo fare una piccola premessa, poi parliamo appunto delle parole di Dionisi, della tattica del Sassuolo e andiamo sulle formazioni, la premessa su Dazon. Io stamattina sono riuscito a fare login, quindi credo che stasera riuscirò a vedere la partita. Quello che è successo ieri è una cosa vergognosa e non c'è altra parola per definirla. Quello che è successo ieri, in tutta Italia e non solo, dovrebbe comportare la rescissione in tronco del contratto con Dazon da parte di Lega Serie A e la distribuzione immediata, attraverso altro broadcaster, di tutto il prodotto. E Dazon se ne va a quel paese per sempre e non vogliamo più saperne. Tra l'altro il servilismo dei giornali fa sì che nessuno abbia polemizzato dei principali giornali stamattina con Dazon. Io ho visto solo la prima pagina del Romanista, mi è capitata, che ha scritto Dazon male, Dazon no in prima pagina. Anche questo non va bene. Da che parte state? Dovete stare dalla parte degli utenti che forse comprano ancora questa carta stampata e che forse vi leggono ancora. Non dalla parte dei vostri amici, colleghi e tutta questa roba poi di editoria e quant'altro. Cioè siamo veramente ad un livello vergognoso. Non è assolutamente possibile una cosa del genere. Tra l'altro non c'è neanche una via d'uscita perché seppure hai una VPN è difficilissimo sottoscrivere un account legalmente all'estero perché sostanzialmente non te lo fanno fare e quindi devi solo sperare che come per esempio è successo ieri con qualche partita ci sia qualche broadcaster estero della Serie A che la trasmette gratis in streaming. Per cui ti colleghi e la guardi tramite la VPN e quello ti può funzionare ed è un metodo assolutamente legale. Altrimenti dobbiamo stare qui a sperare che Dazon funzioni. Io sono riuscito a far login quindi dovrebbe funzionare. E quindi sperando di vedere la partita e soprattutto di vedere una buona partita ma soprattutto di vedere la Juve in campo vediamo che gara potrebbe essere. Parlando delle parole di Dionisi innanzitutto analizzando la sua conferenza stampa e le sue dichiarazioni ai microfoni del Sassuolo. Tralasciando la conferenza stampa di Allegri di cui vi ho già parlato ieri e non voglio tornarci perché altrimenti parto con un'altra invettiva di mezz'ora Dionisi ha detto ovviamente partiamo sfavoriti ma questo non ci deve condizionare perché la cosa importante è avere un approccio diverso rispetto alla partita che abbiamo giocato col Modena Sassuolo ha perso 3 a 2 nel derby ed è stato già eliminato dalla Coppa Italia ovviamente un risultato pessimo che ha creato anche malumore nella piazza. Dobbiamo avere un approccio diverso anche se siamo in una fase di rodaggio fase di rodaggio che accomuna tutte le squadre all'inizio del campionato anche quelle come noi che hanno cambiato poco Sassuolo ha cambiato veramente molto poco anche se qualche altra novità è in arrivo tipo la probabile partenza di Raspadori. Per esempio è arrivato Pinamonti ha detto è arrivato da poco si è sempre allenato non ha giocato comunque quindi è difficile che possa partire dall'inizio però lo teniamo in considerazione e Pinamonti a Dionisi piace molto come sostituto di Scamacca e potrebbe anche fare molto bene sempre per il discorso che quando compri i giocatori punti a lavorarci per farli rendere bene e non a buttarli in campo pretendendo che facciano cose. Nella partita contro il Modena appunto che cosa è successo? Ha detto Dionisi si sono palesati tutti i nostri limiti della scorsa stagione abbiamo sublimato manifestato tutti insieme i limiti che si erano già visti da parte nostra la scorsa stagione e in particolare il fatto di non essere riusciti a creare e di aver concesso all'avversario nonostante avessimo giocato di più hanno tenuto di più il possesso. Dopo vediamo un po' di dati perché naturalmente essendo all'inizio stagione non ho statistiche sull'andamento del Sassuolo in Serie A perché la deve ancora iniziare però io la partita l'ho guardata contro il Modena e ho anche annotato alcune statistiche che ci spiegano come ha giocato il Sassuolo e quindi dopo nel zoom tattico tra un attimo vediamo come la Juve dovrebbe giocare per giocare meglio e vincere e come non dovrebbe giocare per giocare peggio e rischiare di non vincere. Non solo ha detto stiamo lavorando per essere più equilibrati ci manca in questo momento un equilibrio nello sviluppo del nostro gioco non abbiamo lavorato tanto bene prima della partita col Modena e questa è una dichiarazione molto importante cioè Dionisi ammette che prima della partita col Modena evidentemente non hanno lavorato abbastanza bene siamo ad una situazione diametralmente opposta rispetto ad Allegri che dice che hanno lavorato molto bene nel precampionato anche se poi sul campo non si vede assolutamente e si straperde con l'Atletico Madrid e viene fuori che c'era il jet lag che dovevano partire e poi non sono partiti che avevano fatto allenamenti pesanti tutta una serie di alibi e di scuse invece Dionisi si è seduto e ha detto non abbiamo lavorato bene quindi colpa mia si è preso la responsabilità della sconfitta dicendo evidentemente non abbiamo lavorato bene per giocare in quel modo non abbiamo lavorato bene molto onesto ha aggiunto Raspadori io spero che possa restare ma è chiaro lo sapete che potrebbe andarsene finché è con noi può giocare potrebbe giocare anche stasera sebbene le formazioni probabili non lo danno titolare poi ha detto anche un'altra cosa molto importante non esiste nel calcio che i giocatori vincano da soli le partite ci sono dei giocatori che sono più importanti tecnicamente e più determinanti ma poi c'è il gioco di squadra non esistono i giocatori che vincono da soli noi invece sono settimane che ascoltiamo che arriva Pogba e quindi arrivano gli assist di Pogba arriva Di Maria arrivano gli assist di Di Maria adesso arrivano i cross di Kostic per i gol di Vlaovic ma non esiste il calcio non è questo compri Di Maria e hai risolti i problemi compri Depay e hai risolti i problemi compri Bremer e hai risolti i problemi non funziona assolutamente così e ha aggiunto infine cioè ha detto tante altre cose ma io ho annotato questo come dichiarazioni più importanti le squadre migliori sono quelle con i giocatori migliori perché altrimenti come fai a essere la squadra migliore chiaramente è quella con i giocatori migliori sulla carta però puoi ridurre il gap con il gioco e l'organizzazione quello che chiaramente il Sassuolo mette in campo stasera e che non ha messo nella partita col Modena come dicevo dove il Sassuolo ha vinto il possesso 62 a 38 però è stato inefficace perché le occasioni da gol sono state 7 per il Modena e 5 per il Sassuolo i gol 3 a 2 abbiamo detto i tiri 16 a 14 ma nello specchio 8 a 2 solo due tiri nello specchio mi pare uno tra l'altro proprio di raspadori da parte del Sassuolo expected goals tutti questi dati sono fonte in stat sono stati 1,56 per il Modena che però ha fatto 3 gol e 2,5 per il Sassuolo che però ne ha fatti 2 quindi hanno sprecato con tanti tiri fuori dallo specchio appunto precisione dei passaggi 75 Modena 86 Sassuolo quindi una precisione del Sassuolo nella media ma non altissima per gli standard dei neroverdi il pressing ho annotato i dati sul pressing complessivo sono stati 17 interventi di pressing di squadra del Modena e 10 del Sassuolo quindi un Sassuolo che ha peccato nel recupero palla nonostante abbia avuto un PPDA molto basso cioè interventi difensivi passaggi avversari per interventi difensivi Modena 6 Sassuolo 4,8 più è basso meglio è l'indice PPDA e ancora pressing alto quindi pressing sono stati 17 a 10 di cui pressing alto del Modena 7 del Sassuolo 5 basso del Modena 10 del Sassuolo 5 intendendo alto e basso naturalmente come nelle due metà campo e il possesso già l'ho detto ed infatti avendo guardato la partita vi dico in che cosa in particolare il Sassuolo ha peccato quali sono quindi i limiti tattici del Sassuolo vista almeno questa partita col Modena che è la più recente e di conseguenza come la Juve può far male al Sassuolo ma come il Sassuolo può far male alla Juve il Sassuolo naturalmente ha il possesso palla e lo sappiamo è una squadra che costruisce dal basso passa attraverso la linea dei difensori ma cerca immediatamente di portare in transizione la palla nella metà campo avversaria lo fa sia con passaggi corti in cui i centrocampisti si avvicinano ai difensori e i terzini dialogano con le mezzali sia con saltuarie verticalizzazioni anche a palla alta lungo le fasce cercando in particolar modo Berardi il problema però è che una volta arrivati nella metà campo avversaria e nell'ultimo terzo contro il Modena il gioco del Sassuolo si è letteralmente arenato i movimenti senza palla si sono visti non tantissimo ma si sono visti il dialogo tra i giocatori si è visto anche se non tantissimo poi proprio gli sbocchi finali quindi le ultime giocate l'ultimo passaggio a ridosso dell'area di rigore è stata spesso affidata all'iniziativa isolata e solitaria dei giocatori quindi c'è stato poco concerto lì davanti ma il problema qual è stato è che come avete visto il Modena è stato non ha fatto possesso ha giocato più arretrato ma ha fatto pressing anche nella propria metà campo ha fatto anche pressing basso il Modena è stato molto dinamico nel muoversi nell'aggredire per cercare di recuperare il pallone quindi e poi hanno fatto anche pressing alto per andare a recuperare il pallone nella metà campo del Sassuolo infatti tutti e tre i gol del Modena sostanzialmente nascono da errori difensivi del Sassuolo che perde palla nella propria metà campo ma per far perdere palla al Sassuolo nella propria metà campo ci devi andare alto devi andare ad aggredire e per far sì che il blocco basso funzioni contro il Sassuolo rendendoli innocui negli sviluppi offensivi che sono stati appunto deludenti devi fare aggressività e pressing anche nell'ultimo terzo e anche nella metà campo senza contare che sugli esterni non gli devi lasciare lo sbocco non devi portarli come sfogo sull'esterno per farli crossare perché sono molto bravi a mettere palloni tagliati dentro l'area e lo sappiamo anche con l'inserimento dei centrocampisti quindi capite il pregio del Sassuolo è sempre quello del palleggio poi contro il Modena non hanno funzionato perché sono stati gli avversari sono stati aggressivi quindi oltre a fare densità sono stati dinamici quello che la Juve solitamente non fa e allora se la Juve farà blocco basso attendista non dinamico e non aggressivo il Sassuolo ci palleggerà in faccia nella nostra metà campo e troverà prima o poi i varchi per entrare in area e fare gol e se non saremo alti a pressare con due tre o quattro tre o quattro uomini nella metà campo del Sassuolo quando loro impostano da basso noi il pallone nella metà campo del Sassuolo non lo vediamo dobbiamo sperare di essere bravi nell'andare nelle ripartenze ma il Sassuolo non è male nel difendere nel difendere i contrattacchi e la profondità non sono una squadra eccellente ma non è quello il loro punto debole il loro punto debole di andarli a prendere dentro la loro organizzazione tattica difensiva interrompendo il loro possesso con l'aggressività e con il pressing quello che ha fatto il Modena molto bene anche con una certa velocità di trasmissione della palla quindi vedendo come la Juve ha giocato contro giocato per modo di dire contro l'Atletico e come il Sassuolo ha giocato col Modena io stasera mi aspetto un Sassuolo dominante purtroppo mi aspetto un Sassuolo che giochi di più e meglio della Juve quello che poi sarà il risultato non lo sappiamo perché nella gara di ritorno della scorsa stagione pure il Sassuolo ci palleggiò in faccia ma poi vincemmo noi senza meritarlo e chiaramente l'abbiamo detto prima il risultato è fondamentale ma io pretenderò sempre la prestazione perché l'ho sempre fatto e soprattutto una squadra che ha speso tutto quello che ha speso come cartellini e ingaggi e ancora dobbiamo continuare a spendere non è ammissibile che giochi male non è ammissibile al di là della mediocrizzazione a cui ci vuole condannare Allegri con il suo profilo molto basso perché ci sono troppi trionfalismi e la Juve non è tenuta a vincere nulla secondo lui chiudiamo con un'annotazione su McKennie indisponibili e formazioni il caso McKennie allora qui si è vista tutta tutti i limiti si sono visti tutti i limiti purtroppo di tanti tifosi della Juventus perché McKennie è stato annunciato disponibile ieri da Allegri e quindi sui social su Twitter in particolare sono partiti gli attacchi ai giornalisti barra giornalai che figuratevi lungi da me difenderli perché avrebbero diffuso notizie false sulla situazione clinica di McKennie ma si può essere meno avveduti non voglio dire stupidi ma si può essere meno avveduti la Juventus e c'è ancora se lo cercate con un comunicato sul proprio sito ha scritto per mano dei medici chiaramente come referto del J Medical che McKennie avrebbe dovuto fare tre settimane di allenamento differenziato che significa torno tra un mese tre settimane di differenziato poi devi fare forse una quarta settimana di allenamento in gruppo e torni a giocare risultato McKennie forse ha fatto una settimana di differenziato poi è subito tornato in gruppo e sta benissimo cosa c'entrano i giornalisti che hanno riportato McKennie out un mese hanno scritto correttamente poi c'è stato anche chi alla luce della diagnosi ha detto ma quale un mese per un infortunio del genere c'è bisogno di due o tre mesi e quindi McKennie sarà out per molto tempo e sono tutte cose legittime se scrivono delle cose poi non si trovano è preoccupante quindi cari tifosi della Juventus invece di prendervela con i giornalisti a caso che non hanno fatto altro che riportare quello che c'era scritto sul sito della Juventus prendetevela con la Juventus e con lo staff medico che non è in grado e non è la prima volta di dare delle tempistiche corrette e veritiere per il recupero degli infortunati questa è la prima volta che un infortunato alla Juve sta fuori un terzo del tempo previsto o addirittura un quarto forse le altre volte invece si andava a star fuori il doppio di quello che si era detto e l'anno scorso abbiamo visto De Sciglio Danilo Bonucci che si erano fatti male e sono tornati letteralmente il doppio o anche più del tempo che era stato decantato che era stato annunciato quindi c'è da preoccuparsi quando fanno i report medici purtroppo non c'è più da fidarsi e non c'entrano nulla i giornalisti se non capite questo siamo sempre al solito discorso che guardate il dito e non riuscite a vedere la luna chiudendo con gli indisponibili e le formazioni gli indisponibili del Sassuolo sono due tra Orey che se è fatto male a luglio e se è operato sarà fuori per un po' di tempo ed è una grave perdita per loro e Maxime Lopez che è squalificato ora a centrocampo il Sassuolo sorganizza in attacco hanno qualche problema mentre per la Juve mancano Rabiot e Ken squalificati e Allegri non è d'accordo che poi anche quella è una fesseria dove sta scritto che io la somma di ammonizioni non la posso scontare l'anno successivo allora facciamo così che tutti i diffidati l'ultima giornata della stagione precedente fanno fallacci a caso facendosi ammonire tanto sono impuniti capite che poi diventa un massacro l'ultima giornata di campionato quindi questa regola va benissimo così è sacrosanta non ascoltate Allegri cortesia e quindi abbiamo squalificati Rabiot e Ken non è colpa della Lega e della FGC è colpa loro che si sono fatti ammonire e poi abbiamo Shesny l'incredibile operazione di fare infortunari ad una coscia o un portiere una cosa mai vista Shesny rotto per qualche settimana Arthur falso infortunato perché appunto cioè lo vedete dove sta scritto non sta scritto da nessuna parte che Arthur ha avuto un problema alla caviglia io posso sbagliarmi perché non ho verificato prima di fare questo video ma a memoria non ricordo assolutamente che sul sito della Juventus sia comparso un report medico sull'infortunio di Arthur che invece ha continuato ad allenarsi poi adesso ecco macchina del fango nei confronti di Arthur per l'ennesima volta perché si dice anche che Arthur sia in sovrappeso quando io ho visto le storie Instagram di Arthur quest'estate quando era in vacanza si è spaccato ma si è spaccato veramente ha fatto una preparazione atletica con un suo preparatore ma si è si è spaccato può essere che dopo sia andato leggermente in sovrappeso ma non penso sia questo grave questa grave situazione la realtà è un'altra è che la Juve ha speso quasi 80 milioni per questo giocatore dandogli più di 5 milioni di stipendio e adesso invece di dire abbiamo fatto un errore ma non facciamone un altro perché due errori non fanno una cosa giusta e quindi lavoriamoci cerchiamo di valorizzarlo ad Allegri non piace e quindi lo dobbiamo scartare e questo qui farà la fine di Ramsey o peggio perché come fai a venderlo è invendibile a queste condizioni però già gli hanno tolto la maglia numero 5 per darla a Locatelli gli hanno affibbiato la 29 per la serie 6 è uno scarto e adesso ci inventiamo che problemi ha la caviglia e che problemi ha la caviglia da un mese e mezzo perché non si è operato se ha problemi alla caviglia da un mese e mezzo e infatti Allegri ha detto ci sono anche voci di mercato quindi capite tolto al tour poi Pogba lo sappiamo Chiesa lo sappiamo a che si è rotto contro cos'era contro il Barcellona mi paro contro il Real Madrid sempre perché Allegri deve mettere i giocatori i giovani che devono dimostrare 20 minuti un quarto d'ora alla fine così quelli per spaccare il mondo si spaccano le caviglie tutto a posto e Caio Giorgi che ieri Allegri se n'era anche dimenticato che è anche lui un lungodeggente quindi probabile formazione del Sassuolo consigli Muldur Erlich Ferrari e Kiriakopoulos quindi una difesa sostanzialmente titolare a centrocampo Frattesi Enrique e Torsvet quindi con qualche innesto in attacco Berardi titolare Martinez in mezzo e il norvegese sia Martinez che Ceide norvegese sono molto giovani 20-21 anni sono giovani 20-21 anni e Martinez non sono riuscito ancora a vederlo Ceide non mi dice nulla di particolare non mi sembra un giocatore dal guizzo sicuramente Traore è più forte quindi dovremmo star tranquilli sul nostro lato destro dovremmo perché il problema poi è chi gioca da noi a destra abbiamo Perin perché Cesar è infortunato Danilo Bonucci Bremer De Sciglio cioè cominciare la stagione 22-23 con De Sciglio titolare meraviglioso meraviglioso Danilo terzino destro e soprattutto Bremer sul centro-sinistra dove non può stare dove non sa stare a centrocampo Quadrado Zacari Allocatelli Mekenni perché Allegri ha detto due tra Mekenni Quadrado e Kostic partono titolari e alla fine noi giocheremo con Mekenni falso esterno di sinistra una cosa obbrobiosa con De Sciglio dietro e senza un esterno alto d'attacco perché poi davanti ci sono Di Maria e Vlaovic e Di Maria parte da destra in realtà sarà questa la formazione probabilmente sarà un 4-3-3 con Quadrado alto a sinistra Zacaria a destra Locatelli in mezzo e Mekenni a sinistra nel centrocampo a tre però a quel punto mi vai a svuotare il lato destro perché sul lato destro Zacaria che se ne va a prendere farfalle sempre abbastanza svagato per il campo non farà l'ampiezza Danilo non fa la profondità e quindi Di Maria farà ripiegamenti profondi per venirsi a prendere la palla insomma non è assolutamente una formazione convincente se sarà questa ma ci saranno poche alternative è difficile che ci sia una formazione diversa al massimo potrebbe giocare Kostic al posto di Quadrado anche perché ha detto Allegri Mekenni buttiamolo in campo e poi si vede perché giustamente così si preparano le partite e si fanno le formazioni e quindi non mi aspetto niente ma sono già deluso grazie per la vostra attenzione buon ferragosto buon dibattito nei commenti ditemi come lo pensate cosa vi aspettate da questa partita mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a questo canale a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi tra cui l'accesso in esclusiva alla chat live dei miei post partita della Juventus compreso quello di stasera live dalle 22.40 22.45 insomma al fischio finale la programmazione quotidiana con orari e argomenti dei nuovi video in uscita l'accesso a tutte le chat sul mio server Discord e non dimenticate naturalmente la live reaction di stasera dalle 20.15 con accesso chat vocale agli abbonati livello dirigenti Apsim FC ci vediamo molto presto e sempre forza Juve e sempre forza Juve Grazie a tutti